Il Consiglio Comunale di Campobasso è intervenuto dopo tanto silenzio sulla chiusura della Biblioteca Albino. Sentiamo. La Biblioteca Albino non può restare chiusa. Questa volta, finalmente, la questione è approdata in Consiglio Comunale a Campobasso che della vicenda se n'era dimenticata. Una mozione, presentata dai consiglieri comunali 5 Stelle, è stata approvata all'unanimità, dando mandato al Sindaco Battista di aprire un tavolo di confronto con il Ministero e la Direzione regionale dei beni culturali. Il passaggio della Biblioteca Albino dalla provincia di Campobasso ai beni culturali, ricordiamo, si è avuto un anno fa, ma la biblioteca è rimasta chiusa e continua ad esserlo senza conoscere quando sarà possibile tornare al suo interno. Da qui il voto del Consiglio Comunale, con il quale si impegna il Sindaco a dare corso al documento presentato, perché con il Ministero sia chiarita la questione, soprattutto quando la biblioteca sarà restituita quale luogo di cultura alla città. È chiaro che bisognerà rimettere mano anche al personale, oggi disperso in altri enti, nonché della questione del deposito legale delle produzioni librarie molisane, che in questi due anni di chiusura non è stato fatto. Una storia, quella della Biblioteca Albino, che fa male al sistema culturale regionale. Nella fase di transizione, fino a transizione avvenuta, l'Albino non avrebbe dovuto in nessun modo interrompere l'attività. Lo pretendeva la sua storia centenaria e lo stabiliva l'accordo per l'appunto, ma così non è stato. Lo abbiamo scritto e torniamo a scriverlo. Gli accessi sono chiusi con lucchetto, le serrande sono abbassate, per due anni il disinteresse istituzionale si è manifestato in tutta la sua volgare ignoranza.